Ecco, questa è la prima colata della scultura di Nina Mamma, che è nata per caso da sola, non era messa in preventivo. È stata curata di più incetti particolari come la mano, la tessitura, la concettura della tela sulla testa, questo è il più sporgente, alcune parti più evidenti della mamma mia. Piccoli dettagli, adesso non so se si vede, piccoli dettagli, però è stata quella muscolatura, è stata rivista un pochino, e soprattutto il bambino, il corpo del bambino. È stato modificato un po', è stato incicciato un po' di più, ossia le braccia, il cuoreto è stato portato più in avanti, le mani, l'oreola del capezzolo è stata accentuata, qui non si vediamo, il cranio del bambino e lo sguardo della mamma. Lo sguardo della mamma, a differenza di mamma mia, che è vigile, che controlli che tutto sia apposto per la sicurezza del figlio e anche sua. Qui ha l'occhio più sul chiuso, perché sta cantando questa nina nanna. E questa cornice ondulatoria, classica, è una cornice antichissima. Sottolineo un po' il grafico della nina nanna che viene cantata, che ti avvolge di un'onda magica, che ti porta nel sonno e nella tranquillità. Una cosa che ho pensato di fare è, a parte la dimensione che è più piccola delle sculture, diciamo che ho prodotto e produco ancora in multiplo di 99 pezzi, che hanno un prezzo di 800 euro. Queste, essendo più piccole, costano ovviamente di meno. Questa qui viene invece di 800 euro, 500, la mamma mia. Questa qui invece viene 300, prezzo base. Ma io voglio fare un'offerta da qui alla fine dell'anno, per chi ama l'arte e non ha delle somme importanti da poter spendere specialmente in questi tempi, però vuole fare un regalo alla persona che gli sta a cuore o anche fare un regalo a se stesso, perché anche noi meritiamo un regalo nella nostra vita, ho deciso di fare la metà prezzo. Questa verrà venduta a 150 euro e questa qui verrà venduta a 300 euro. Da qui entro la fine del 2022. Mi contattate alla mia posta elettronica montellicchiocciolavirgilio.it e ci accordiamo per la consegna, il pagamento e tutto quanto. Il prezzo è sottinteso bianca, bianca. Anche se una delle tre mamme io la colorerò perché una colorata la voglio fare per far vedere come risalta il palleggio. NINULA 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 Gioca il sogno al tuo bambino NINULA 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 N Grazie a tutti. Grazie a tutti.